Allora, buonasera, siamo qui con Prochilo, migliore in campo della partita Baby Gang contro Blue Devil, finita 9 a 7 a favore dei Baby Gang, Prochilo autore di 5 gol. Allora, Prochilo, ormai il campionato è finito. Posizione di classifica, la vostra qual è? Aspettiamo l'incontro San Margaret-Raio Vallecano. Per capire... Se arriviamo ottavi, perlomeno. E riuscite così ad evitare i play-off? Speriamo. Per arrivare direttamente alla fase finale dei sedicesimi. Ho capito. E per quanto riguarda proprio i tuoi obiettivi personali, hai fatto 5 gol oggi, 5 gol la scorsa partita. Nel totale a quanti siamo? 17, dovrebbe essere. 17, ah, quindi c'è il liberatore che ieri in una sola partita ne ha fatti 17, quindi è un po' difficile per la questione dei marcatori. No, vabbè, io gioco per la squadra, non mi piace. Ho capito. Non mi piace. E senti, sugli obiettivi proprio della squadra, superate, cercate di arrivare... No, noi viviamo... Alla giornata. Buongiorno giornata, cerchiamo di andare avanti, poi... Mi vuoi fare un saluto speciale? Un saluto, dedico ancora questa vittoria a noi, a tutti quanti che adesso ci siamo ripresi. Ho capito. E al Palazzo, di Silvio, anche il nostro sostituto partiere. Ah, quindi non posso chiedere. Perché il vostro partiere non c'era? Il nostro partiere, diciamo che è infortunato, quando la vado, tu inti su queste domande. Va bene, allora salutiamo Proglo. Grazie, ciao. Grazie. Grazie.